Un signore del Bosco, sono queste ore difficili un po' per tutto il mondo per cosa sta accadendo in Ucraina. Lei, raccogliendo l'invito di Papa Francesco, ha invitato a preghiera e digiuno nel giorno delle ceneri, il 2 marzo. Sì, ho fatto proprio una breve dichiarazione a tutti i preti perché nelle varie comunità, nelle varie parrocchie, si prendono iniziative di preghiera, di riflessione e soprattutto in sintonia con la Chiesa Universale per vivere la giornata del mercoledì delle ceneri, proprio come inizio della quaresima, nella preghiera, nel digiuno per chiedere il dono della pace che è dono di Dio. Ecco, per i credenti, come possono vivere i credenti questo momento così di angoscia, insomma, che tiene il mondo col fiato sospeso? I credenti penso che possano veramente invocare l'aiuto dal Signore attraverso la preghiera perché non si può fare altro. Certamente pregare perché coloro che hanno le sorti delle nazioni in mano possano raggiungere la ragionevolezza e trovare veramente la nostra unità nel bene comune, nel bene per ogni uomo. Ecco, sono stato particolarmente colpito nel vedere questa aggressione e il vedere come tante persone in questo momento stanno soffrendo. I grandi della terra rimangono nei loro palazzi al sicuro, mentre chi paga, chi soffre, chi muore, sono sempre gli ultimi e sono sempre i più poveri.